Quell'ospedale che aveva chiuso poche ore dopo essere stato inaugurato con soli tre pazienti adesso comincia a lavorare sul serio. Oggi i primi 12 pazienti nel primo modulo in semi-intensiva, domani altri 14 pazienti, stavolta in terapia intensiva. Per il momento il personale arriva dagli ospedali di Civitanova e Macerata in pre-allerta ai militari. Dopo l'incontro con i vertici della sanità di ieri, stamattina la Giunta è tornata a riunirsi con una serie di temi all'ordine del giorno e con un calendario fito di appuntamenti. Tornerà infatti in seduta giovedì perché, spiega il presidente Acquaroli, anche se abbiamo un'emergenza importante il resto non può aspettare. Nel resto, precisa l'assessore al bilancio Guido Castelli, ci sono i miliardi del recovery plan che comprende infrastrutture come la Fanno Grosseto, la Flaminia, il Porto, ma non solo. Noi stiamo cercando di accelerare questa ricostruzione così lenta, così tardiva, ma stiamo anche pensando al futuro di quelle zone che una volta ricostruite dovranno anche essere munite di una prospettiva futura. Quindi il recovery plan, almeno 3 miliardi e mezzo in sede nazionale, sono stati destinati al cratere Sisma 2016 insieme a quello del 2009. Quali interventi in particolare possono essere finanziati? Si va sviluppando un ragionamento sul recupero delle attività dei nostri boschi, si sta parlando del super bonus, di edilizia e di ricostruzione quindi di qualità all'insegna dell'infeccentamento energetico, ma anche di trasporti, mobilità sostenibile e intermodalità in maniera tale che le nostre zone dell'entroterra non siano intercluse rispetto alle altre zone dove si sviluppano i flussi maggiori. Insomma, l'obiettivo è quello di dare prospettiva, è di garantire un futuro una volta che finalmente le case saranno ricostruite.